salve sono urbano della sani moreno volkswagen audi di fucecchio vi presento una nuova arrivata nel nostro parco usato si tratta di questa bella golf serie 6 dell'anno 2011 allora alcune notizie più precise questa vettura è appartenuta ad un solo proprietario acquistata presso il nostro centro vendita e curata come assistenza presso il nostro centro bosvallo allora come vedete la carrozzeria non presenta particolari anomalie c'è solo da se devo far notare qualcosa solo questo graffo sulla porta come vedete però non ci sono ammaccature quindi è molto molto bella come verniciatura poi abbiamo i suoi cerchi nera da 16 pollici internamente la tappezzeria nera non ci sono strappi non ci sono usure poi abbiamo il suo climatizzatore manuale l'autoradio con il cd la vettura ha percorso 295 mila chilometri però è stata fatta come dicevo tutta tutta la manutenzione presso il nostro punto vendita l'ultima manutenzione l'ha fatta a 260 mila chilometri circa e la cinghia distribuzione a 210 mila chilometri quindi a livello di manutenzione la macchina è stata sempre sempre curata allora questa vettura è già disponibile presso il nostro punto vendita quindi la potete venire a vedere a provare oppure potete telefonare ai numeri che troverete sull'inserzione per avere quante più notizie possibili anche il prezzo lo vedrete sull'inserzione quindi poi quello ne parliamo quando deciderete di avere queste informazioni a questo punto non mi rimane che dirvi grazie dell'attenzione vi aspetto per darvi quante più notizie possibili desideriamo arrivederci